Ciao a tutti e benvenuti su TechGaming, in questo video torno a parlarvi di Twitch, in particolare di una nuova funzionalità che è stata annunciata di recente e che sarà disponibile dal 17 dicembre. Prima di mostrarvi questa nuova funzionalità, voglio farvi presente una cosa, che di recente l'interfaccia di Twitch si è aggiornata. Infatti adesso possiamo accedere alle varie voci del nostro canale direttamente sulla sinistra, tramite questo menu a comparsa. Se voi andate nel vostro canale, e quindi diciamo andate su twitch.tv slash il vostro canale, solitamente per accedere alle varie opzioni andavate su video producer o dashboard autore e così via dicendo. Oggi invece vi trovate in questa condizione, questo perché a sinistra il menu è a comparsa adesso, non è più fisso. Inoltre sono state riviste le varie voci, quindi vogliamo analizzarle velocemente. Andiamo su gestore streaming, da gestore streaming accedete al nuovo appunto gestore streaming, di cui vi ho parlato in un precedente video, per cui non mi soffermo più di tanto. Torniamo indietro e andiamo su informazioni dettagliate, da qui possiamo accedere a analitica canale, riepilogo streaming e obiettivi, quindi tutto ciò che ha a che fare con le informazioni del canale, quindi il guadagno, i follower eccetera. Su community invece abbiamo la possibilità di gestire i ruoli della community, quindi aggiungere i vari ruoli, consultare le varie attività del canale, quindi quello che io ho fatto nel canale, e poi abbiamo la nuova voce di cui vi voglio parlare, cioè punti canale. Ultimamente diciamo i più noti streamer hanno abbandonato Twitch per buttarsi a capofitto in mixer, ciò ha portato Twitch a diciamo introdurre nel servizio delle novità, tra cui appunto punti canale, che sarà disponibile dal 17 dicembre. I punti canale servono allo streamer per offrire agli spettatori la possibilità di accumulare punti da spendere in vari modi, potete ad esempio offrire ai vostri spettatori la possibilità di mettere in evidenza il proprio messaggio, sbloccare un emoticon esclusiva, inviare un messaggio in modalità solo abbonato, insomma ci sono varie diciamo ricompense che possono essere sbloccate, attivate, usufruite una volta che si è raggiunto il costo stabilito. Quindi ad esempio se volete offrire ai vostri spettatori la possibilità di mettere in evidenza il messaggio, potete attivare questa opzione e su modifica indicare i vari parametri, quindi potete assegnare un costo in punti. Costo che naturalmente verrà detratto dalla somma totale dei punti accumulati. I punti possono essere accumulati in molteplici modi. Se andiamo indietro possiamo attivare o meno questa opzione e possiamo qui assegnare delle ricompense in termini di punti, quindi possiamo ad esempio scegliere delle icone da mostrare per i vari punti. Insomma è una funzionalità davvero molto interessante che avrò modo di provare per voi il 17 dicembre e quindi magari più avanti realizzerò un video dove vi mostro nel dettaglio le funzionalità di questo nuovo strumento. Poi abbiamo contenuti dove ci sono i video salvati, le raccolte e le clip, poi preferenze dove ci sono appunto le preferenze del canale, quindi la moderazione, gli strumenti per affiliato. E adesso abbiamo anche il Sound Alerts, ossia un'estensione che coinvolge il pubblico attraverso i bit che vanno acquistati e che quindi vi fanno monetizzare. Per adesso non mi serve quindi metto no. Poi abbiamo le estensioni che sono tutte appunto le estensioni che potete installare, configurare e utilizzare nel vostro canale per personalizzare al meglio ed arricchire lo streaming. Poi abbiamo gli strumenti per lo streaming che sono software esterni come OBS ad esempio e poi abbiamo scuola di streaming che ci porta a un sito ufficiale e straniero che ci dà dei consigli su come streammare al meglio. Quindi diciamo la nuova interfaccia che dovrebbe essere già disponibile anche per voi è strutturata in questo modo. Invece per quanto riguarda la nuova funzionalità punti canale è accessibile da qui, quindi anche dalla schermata della gestione streaming andando su community punti canale. Dal 17 dicembre potete iniziare ad utilizzarla, ma avete già quest'oggi la possibilità di personalizzarla, di configurarla in vista del lancio. Se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.